L'ospite che aprirà la serata si chiama Lorenzo Piccone, eccolo qui. Ciao Lorenzo, ciao. Come stai? Sei in forno, bellissimo, delle basettine di chiamate. Buon ascolto e ancora una volta benvenuti a Zazzara Zazzara. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Volevo subito rassicurare il gentile pubblico che non ci sarà nessun combattimento mortale nonostante l'outfit. Buonasera a tutti. 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 Che infelicità, non far così, ma dimmi sì, un bacio solo, mi basterà. Non far così, ma dimmi sì, un bacio solo, mi basterà. No, non far così.